In questa puntata, chiusura estiva dei lavori del Consiglio regionale, gli impegni per la ripresa. Al via la campagna social estate 2023 la Toscana dei Parchi. Corecom le indipendenze digitali in Toscana in spot 2023. I lavori del Consiglio regionale si interrompono per la pausa estiva per riprendere a settembre. Con i consiglieri facciamo il punto sugli impegni più urgenti alla ripresa dell'attività. Noi concludiamo la prima fase dell'attività, prima della pausa feriale, con un intenso lavoro che è appunto quello dell'approvazione del piano regionale di sviluppo, del DEFRE, e riapriremo con impegni altrettanto importanti. Uno tra tutti il piano dei rifiuti, che ha avuto un'importante gestazione nell'ambito della Commissione, che ha fatto un grande lavoro di audizione. A settembre ci troveremo ad affrontare questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana a strade, ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24. E quando parliamo di bilancio sappiamo che tutti i temi sono toccati. E quindi inizieremo a fare una verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali per quanto riguarda la sanità e avremo questo importante momento di confronto con la società toscana per vedere quello che sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per l'anno successivo. Le priorità per settembre, per quanto ci riguarda, spero siano infrastrutture e lavoro. La Toscana oggi è stato proprio argomento di dibattito in aula in questi giorni sul PRS. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la regione toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero, perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand toscana, di quella fama, di quella pill che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro? Noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni. E siccome in vent'anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il Presidente Gianni ha parlato di godimento nel vedere partire la talpa dell'alta velocità a Firenze, la talpa doveva partire 17 anni fa. Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra vent'anni non lo saremo più per nessuno. E noi dobbiamo pensare a quello che succede tra vent'anni e non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula. Io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet. E questo non significa che i bambini di quei comuni non possono giocare ai videogiochi sull'iPad. Questo significa che una giovane coppia che deve scegliere dove compri a casa, tra scegliere di comprarla in un comune A dove c'è un segnale cellulare o scegliere di comprare in un comune B dove questo segnale non c'è, sapendo e avendo imparato sulla nostra pelle che sempre più spesso si potrà ricorrere allo smart working, al lavoro da casa, alla videoconferenza. Non la compra la casa dove non c'è un segnale di copertura internet. Un'azienda che deve aprire un nuovo capannone non lo fa in un comune dove non c'è la fibra, perché è fuori dal mondo, perché parte già non competitiva prima ancora di aprire. E avere 40 comuni e una porzione enorme di territorio, soprattutto nel nord-ovest della regione, ancora non coperta dalle infrastrutture digitali, è un gap che la Toscana paga in maniera enorme nei confronti alle altre grandi regioni del nord e che ti avvicina purtroppo alle regioni del sud Italia, anziché competere con quelle del nord. E questo è un tema. Il Presidente Gianni ci ha lanciato la sfida, ha detto che entro la fine della legislatura avrà colmato questo gap digitale e lo aspettiamo al VAR. Io mi auguro di dargli ragione, lo dico prima. È evidente che superato il piano regionale di sviluppo un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti e non solo, sarà un settembre caldo, non soltanto climatico perché dovremo definire e avere coraggio. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana, non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare ma si deve trasformare in energia. Questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione e quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grande rispetto a questo grande tema o altrimenti perderà questa sfida, servirà coraggio, servirà capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Sì, da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partiremo anche come centro-destra con una serie di proposte, tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centro-destra indetta proprio dai tre capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori dove batteremo tantissimi temi dall'ambiente alle sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. Siamo pronti per questa sfida, è una sfida che ci vede al Governo a livello nazionale e siamo sicuri che tra due anni e mezzo ci troverà anche al Governo di questa Regione. Abbiamo bisogno anche di far capire a tutti i cittadini toscani quelle che sono le nostre proposte, non solo in Aula, in Consiglio regionale, ma inizieremo una serie di comunicazioni in tutte le province, batteremo tutti i territori insieme perché veramente ci crediamo. Questa è la volta buona, noi siamo pronti, siamo uniti, abbiamo una strategicità veramente diversa di Toscana, siamo pronti insieme ai nostri ministri a dare un import diverso alle infrastrutture, un import diverso alle nostre aziende, a far sì che veramente la Toscana cambi passo per quello che merita. Da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato e mi sento proprio di dire così lasciato da questa giunta, cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'inizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scelerati come la terza torre di Novoli inaudita in un momento come questo e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche. Molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a due o tre velocità come purtroppo ci ha condannato ad essere questa giunta. Sicuramente a settembre, dopo anche due anni e mezzo, dal mio punto di vista occorrerà dare un'accelerazione su tante cose. Le dicevo prima, a cominciare appunto dai tanti temi che sono rimasti aperti sul tavolo. Sicuramente si aprirà con il piano dei rifiuti ma sicuramente occorrerà intervenire anche su ciò che non ha funzionato rispetto alle modalità con cui si sono attuate le politiche regionali. Noi abbiamo ricorso all'indebitamento regionale per far fronte a degli investimenti che sono investimenti totalmente estemporanei che sicuramente sono stati fatti in alcuni casi nell'ottica di salvaguardare i comuni ma in molti altri casi noi abbiamo ricorso al debito aggravando la situazione dell'ente senza una reale visione programmatica. Dal mio punto di vista, come eletta nella provincia di Firenze, continuerò a portare avanti quelle che sono state le battaglie che hanno dato anche dei risultati importanti. Penso alle risorse che arriveranno in Alto Mugello per sostenere i piccoli comuni che hanno dovuto affrontare l'emergenza alluvione. Penso alla sfida delle infrastrutture. Penso al Valdarno che attende da tanto tempo che finalmente si sblocca un'opera strategica come quella del secondo ponte. Penso all'attenzione costante al tessuto produttivo. Penso al mondo dell'artigianato che è stato in qualche maniera accantonato anche in questo piano regionale di sviluppo. Alle tante sfide che attendono proprio la crescita della regione toscana, guardando sempre però all'interesse dei territori e dei cittadini, portando risultati cronchetti con un approccio che deve essere pragmatico, non narrazioni ma tanto tanto pragmatismo. Promuovere nel cuore dell'estate i parchi naturali della Toscana ricchi di bellezza, biodiversità e storia. E' questo il senso della campagna social del Consiglio regionale Estate 2023, la Toscana dei Parchi. L'obiettivo è far conoscere quanta storia, quanta bellezza, quale biodiversità ci sia nei nostri parchi. La Toscana è terra di arte, terra di storia, è terra di cultura, è una terra che è in grado di far conoscere la propria bellezza attraverso le coste stupende, attraverso le città d'arte, attraverso i borghi più piccoli, ma anche una storia di parchi naturali molto molto importanti. Questi sono luoghi del benessere, sono luoghi ricercati ormai in tutto il mondo e allora noi abbiamo deciso quest'anno come assemblea legislativa, lo scorso anno l'avevamo fatto per i piccoli borghi, quest'anno abbiamo deciso di sostenere, far conoscere quanta bellezza e il valore dei nostri parchi naturali. Voglio ringraziare di cuore per il sostegno tutti i presidenti dei nostri parchi, sia quelli nazionali che quelli regionali per il lavoro importante che portano avanti. Questa è una stagione da vivere all'insegna della natura e della biodiversità. Quindi a tutti i turisti che vengono in Toscana, venite a visitarli, a conoscerli, venite a vedere e toccare con mano quanta bellezza c'è nei nostri parchi. Sì, bellezze naturali e anche grandi potenzialità nello sviluppo turistico della nostra regione perché i parchi sono capaci di diversificare l'offerta di arte, di paesaggio tipicamente toscana, incrementandola e mettendo insieme anche un'offerta di natura, un'offerta ecologica. È un tipo di turismo estremamente attuale, non solo perché avvicina e sensibilizza le persone a temi importanti come quello della transizione ecologica o dei cambiamenti climatici che sono aspetti che vengono tipicamente affrontati all'interno dei parchi, ma sono molto importanti perché rappresentano anche un'offerta turistica sociale, perché i parchi sono un luogo abbastanza economico per vivere il mare, per vivere la montagna e quindi in un momento di difficoltà come questo i parchi svolgono un ruolo e le aree pubbliche svolgono un ruolo essenziale nell'offerta turistica. Questa iniziativa è sicuramente importante anche perché la Toscana svolge un ruolo importante all'interno del sistema delle aree protette italiane. Ci sono tre parchi nazionali, l'Arcipelago Toscano, le foreste casentinesi e il Tosco Emiliano, poi ci sono dei parchi regionali importanti come la Maremma e San Rossore che è stata anche tenuta presidenziale. Abbiamo un geoparco come quello delle colline metallifere, quindi abbiamo tutti gli ambienti da quelli montani a quelli costieri, litorani e quindi degli ecosistemi davvero importanti che fanno della Toscana una punta di diamante del sistema mare protetto italiano. Ma in San Rossore si vive bene anche perché da quando sono arrivato io ho cercato di aprire il più possibile perché i parchi non sono degli enclave dove devono essere solo guardati, adorati, devono essere vissuti perché se si vivono e si condividono si rispettano. Per cui noi abbiamo fatto questa rassegna a Vivi Parco, abbiamo portato circa 2500 persone a fare gli eventi all'interno delle varie location nel parco e stiamo aprendo dei nuovi sentieri perché questo secondo me è il futuro. Il tema del contrasto alle dipendenze in rete dai social network ai videogiochi è protagonista del progetto Toscana in Spot 2023, indipendenze digitali, promosso dal Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni. Come Corecom abbiamo subito indetto questo bando e questo premio legato proprio al tema delle dipendenze digitali. Crediamo un tema di grande attualità, di grande importanza che riguarda le nuove generazioni ma riguarda in generale un po' tutte le generazioni. Il bando, la scadenza, la data sarà il 15 settembre, ci sarà la possibilità di partecipare attraverso dei video della durata massima di 60 secondi dove i giovani, ma non solo i giovani potranno partecipare ed esprimersi attraverso il proprio linguaggio, attraverso il linguaggio audiovisivo proprio su questo tema. Grazie.